Eh, è una scezionale zima dopo io, Torgiavi. Gradina, ma di Torgiavi. Gradina, da qua, dai. Ah, vedete, questo è fino a Sraele. Il buco è una nostalgia, sai che il buco è un buco. Questo è un po' più modi. Stassi anche a me la tua parte, non lo so, non lo so, non lo so mai. Non lo so, non lo so. E questo, dopo il tempo è il stadio, intorno con un piaesco, questo è un porto con la tua natura. Quali qui si è la terra nel presentazione? No, no. Ma esperata, è comunque la terra nella casa. Abbiamo un piaesco. E questo è la terra nel posto, di Dobu e Mirko. Cosa è comunque ... Ecco l'altra una posizione di nuovo. Ecco l'altra una posizione di nuovo. Ah, la presenza di nuovo, si appena è stato polici, è una posizione bodačka. Ora siamo... ...è una posizione bodačka. Non sono messa, non sono appena, sono arrivato a questo giorno ruso. A questo è un open mosto. Tzv. japanero perché è costruito da vallare in japanerà. Leo, chiede il japanerà. Sì. Questo è il nuovo giro, non è il giro, è il giro. C'è un giro, sì. È un giro, non mi piace, non mi piace. Come si chiede le scuole? È una giuta giro, l'azienda, si chiede la boračka. L'accia 250 milioni. Qui è? È un giro, il giro, è un giro. È un giro, ci sono tutti giro. i sono stati e i cittadini, e questo è un'ànaggio pensione, lo sai. ecco l'inferno di nuovo, è un'altra nuova, città di nuovo. Anche per le nuove, una nuove picche da città e ne v Navigliati un'altra nuova. Qui c'è un'azienda di Pensione. Qui c'è un'azienda di più di più. Non c'è nessuno di più, nessuno di casa. E' una persona di più. E' una persona di più. Il nome di Asoltan Lena, Asoltan Tarkovato. Il corso di Nardi Heroi. Non sono ancora arrivato da l'Evana. C'è un'azienda di Nardi Heroi. C'è un'azienda di Luka Stefanović Karožić. Ano che non si aspeta, ma avuto il Poligono? Sì, ma bro. E' un'azienda di acetera. Ci sono이에api 4 tasse. S'è un'azienda di Poligono. C'è l'ave Jewish Poligono, c'è l'avevo pelicolo. Sta' ли sia baile sequozizo, andiamo fuoco ja, non .. Non c'è la용ina da nonposa. Si, non c'è ancora solito. Non c'è il r習 Radi Isidore. La verità di Solterro, Culprizco. E' a me fanno il mosto tra Bosna del Sardinazore da Lipac. E' a me fanno il stile di stile細che. E' a me fanno il Stilevo di Staminero. E' a me fanno la Solterro, Culprizco. E' l'ho qui c'è un peccaro? E' l'ho sempre c'è un peccaro, ma l'algi non c'è. Rahmet per la sua. E' l'ho qui si fa il risultato, qui c'è il Brisco. E' l'ho qui c'è un'assur. E' l'ho qui c'è un'assurato. Y'le dom, un'astavao le miei, l'histoire. C'è un po' quixithio. E' l'ho qui, qui.. l'hoï 볼ume così. Qui va qui? l'H Hell 내가 Oui. E' un'automoto spazio. E' un'automoto si è stato un paio. E' un'automoto spazio. Ciò che fu fuori. Anche qua, prena Kikiava e Slasčarovicone. Parmi Kikiava e Slasčarna stata anche una nuova. N'altra parte. S Hierna viene da gira. C'è stato un paio, un pijacino. L'evi dom zdravlja, evo dole gore pranzo staro robino Belgradsco, sada je tu konzum. Ovo je nova zgrada, ova plava ovdè. Tako je, zovu plava zgrada. Evo je ona zgrada izznad Iskri. Ola je tamo šibica, tako zvana. Evo je, da je nerekom, oni te ponese vaj so, k'niti. Ne mogu fat vako manje treze, k'amera vako ljuda. Sì, c'è una nuova città per la nuova città per la nuova città. L'info è nuovo, per ora. E' un po' qui c'è ora. Duele su su plane, se ne vorrò... Oggi sono dove? D'acca, l'info è un po' più difficile. Il c'è l'info per ora. C'è un po' più difficile da l'info di suderemo direttamente da qui e il fuoco. L'info è un po' più difficile. Sì, c'è un po' di svegliere. Io penso che è uno da questa casa, sono mezzare concire,Лhe著懂o? Ci sono una casa di campo di Luku paolo. La nostra stessa di Vietlić è una nuova città. Qui c'è il giamio? Qui c'è il giamio? Siamo arrivati da dove. C'è un minuto? Sì, ciò che ci sono ancora... Mi chiamo anche qui, tra i pochi le dure, che il rurale di grado non si resta... ...il tempo di perdita o per postare. Io vorrei una cosa che io voglio un po' di qui. Sì, ora posso fare un po' di qui. Qui si è un po' di qui? Qui si è un po' di qui? Si, è un po' di qui. ... Evo ovunque per un'epoca... ... di vino. ... 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 Cosa, Marta? Sono OMPD. Cosa è tu? Tu sono i quei pareti. Cosa è ora. Sottotitoli asettante. Rapp偲are sono i quei mesendoni. Bene outdoors. Grazie a tutti.